Intanto è una legge che non è nata dal consigliere regionale ma è nata dagli studenti, dalla consulta degli studenti della provincia di Potenza e di Matera che insieme a me hanno costruito questa proposta di legge che è stata già licenziata in aula, quindi è diventata legge, è diventata legge nella giornata stessa nella quale loro celebravano la giornata degli studenti che con la nuova legge diventa giornata regionale degli studenti e della loro espressione artistica. Quindi una doppia funzione, la prima funzione è quella di aver partecipato al processo istituzionale e istruttorio di formazione di legge, quindi i ragazzi hanno fatto un'esperienza all'interno delle istituzioni ed in secondo luogo hanno celebrato una giornata che loro nel tempo potranno vivere attraverso appunto una libera espressione artistica che io mi auguro possa consentirgli di portare tanti progetti anche al Giffoni Film Festival. Giffoni è uno dei luoghi per eccellenza, noi in Basilicata abbiamo anche un hub del Giffoni Film Festival e quindi sono cresciute le delle giovani leve dell'audiovisivo e dei giurati all'interno del paese di Monte Scaglioso ma anche di Terranova del Pollino e lì abbiamo celebrato delle giornate insieme ai ragazzi da cui abbiamo fatto nascere un ulteriore progetto che si collegherà proprio con il Giffoni Film Festival e che è contenuto all'interno della riforma della cultura che varerò diciamo nel prossimo autunno che si chiamerà Da un punto dell'universo all'universo intero ed è un titolo che è nato proprio da una giovane giurata del Giffoni Film Festival. Ci auguriamo di poter presentare questo progetto nella prossima edizione del Giffoni e magari iniziare una vera e propria collaborazione con la Basilicata e con la crescita dei nostri giovani lucani. Nel dialogo delle nuove generazioni è indispensabile decifrare e accogliere il linguaggio dei giovani, non sempre le istituzioni ma diciamo le generazioni più adulte sono in grado di cogliere la loro forma di comunicazione. Invece cogliere e adattarsi ad una comunicazione differente ci potrebbe certamente arricchire del linguaggio nuovo ma soprattutto di espressioni valoriali nuove tipiche dei giovani che sono assolutamente da valorizzare.